Ti rendi conto di quanti danni sta a fare a me e a mia famiglia, Riccà? Ce l'hai l'idea? Te non ci devi venire più al ristorante. Se ci saranno altre assemblee collegiali, voti solo quello che voto io. Mi sono spiegato? Sì, sì. Te sei andato per perdere, Riccà! Se l'hai andato per perdere! Pezzo di merda! Non mi toccare! Hai voluto fare lo stronzo con me? E coglione io che mi sono fidato! Perché? Perché? Perché ti ho sempre considerato il mio miglior amico! Lo sono ancora! E tu lo sapevi! Lo sono ancora, Gah! Ma cosa sei? Il tuo miglior amico, lo sono ancora! Ma cosa sei ancora? Amori, ti stai a scopare la mia ex moglie! E magari da quando io e lei stavamo già insieme! Ma che cazzo dici? A sto punto è possibile tutto! Ma vaffanculo, Carlo! Niente, niente, c'è stato più con la testa, niente! Io non credo a un cazzo di quello che dici! Adesso ti svegli e ci calmiamo! Perché altrimenti qua non usciamo! Te ridò tutto! Sono tre milioni, Carlo! Davvero faresti questo? Il tuo cardiologo c'ha un nome? Jeffrey! Jeff! Oh, Jeffrey, Jeff! Quanti anni ha Sara la ballerina? È laureata! Ok! Quindi quanti anni ha? È laureata recentemente! 21? 22! 23 li fa il 12 di agosto! Abbiamo cresciuto un attivista! Comunque sappilo, eh! Io non autorizzerò mai delle immagini in cui non sono bellissimo e giovanissimo! Allora non ci saranno immagini due in questo video! Grazie a Nita! Mi piacerebbe avere tue notizie ogni tanto! Ti amo! Puoi portare questo messaggio nei tuoi viaggi? Rientra! Dio all'ispettore a chiunque la stia interrogandovi! Racconti io quello che è successo al Battista! Cazzo lo sapevo! Io lo sapevo! Io cazzo! No, no, firma, firma, firma! Non mi chiamare! Non mi chiamare! E che io dò la stia! No, 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 no. No, 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 no.